Prima di pensare ai balocchi dovremo ripensare la città, nessuno può illudersi che Como rimanga la stessa dopo la pandemia di coronavirus. Bruno Magatti, capogruppo di Civitas in Consiglio Comunale e già assessore ai servizi sociali nella giunta di centro-sinistra guidata da Mario Lucini, ragiona sullo scenario che si aprirà di qui a pochi mesi nel capoluogo lariano. Il Corriere di Como ha rivelato nei giorni scorsi che a fine maggio dovrebbe essere pronto il nuovo bando per gli eventi natalizi, un testo che risentirà in modo inevitabile di quanto accaduto in questi mesi. La domanda che molti si fanno è, ha un senso mettere in piedi la macchina organizzativa della città dei balocchi senza sapere quale sarà il quadro epidemiologico in autunno? Personalmente non nascondo le mie preoccupazioni, dice Magatti, in inverno è del tutto probabile che il virus torni e con la malattia torneranno la paura e l'ansia delle persone. Una città dei balocchi simile alle ultime non sarà possibile. Ma il punto vero per l'ex assessore è un altro. La pandemia, spiega Magatti, ha messo a nudo tutti i punti deboli della città, in qualche misura li ha aggravati. Pensiamo alla mobilità o all'affollamento del centro storico. È chiaro che la concentrazione di auto e di visitatori in determinati giorni e in determinati punti non soltanto non sarà più possibile ma sarà addirittura da evitare. Non basta spezzare in due il bando, prevedere di utilizzare nuovi spazi. Un ragionamento che in qualche modo è condiviso anche da Enrico Cenetiempo, capogruppo di Forza Italia, con un passato di assessore al patrimonio nella seconda giunta di Stefano Bruni. Organizzare l'evento sarebbe sicuramente un segnale importante ma tutto deve essere fatto in totale sicurezza. Non potremo certo avere le 100 casette dell'ultima edizione, bisognerà garantire il distanziamento sociale e non è facile. Alle condizioni odierne, ammette Cenetiempo, è difficile immaginare che cosa sarà la città dei balocchi del 2020. Peraltro credo che tutto debba essere subordinato a una clausola sanitaria. Se l'epidemia dovesse tornare, l'evento non potrebbe che saltare. Personalmente salverei comunque l'illuminazione delle piazze, anche se ci fosse il divieto d'ingresso. Potremo vederle in streaming e, conclude, farne l'immagine di come da far girare in tutto il mondo.